Il passel mio è a quest'anno della Madonna di Lorena ci avevi detto che non volevi battuto dalla mitologia e vabbè l'altra volta e vabbè oggi tutta chiesa video 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 aspetta ma non potete farlo corinna è un po' poco vestibile vai via perfetto ti posso far santificare se non prende mettendo un enorme pezzo bella posso io perché cazzo l'ho pensato la divina mi ha domani un pesetto ma chi lo ha ragazzi? è il rosario con uccello questo è il tuo rosario perché diventerai santa ma è volato un uccello ma hai volato un uccello ho fatto un discorso perché non puoi essere santificato ma chi sta facendo niente io allora cari fratelli cari fratelli siamo oggi qui riuniti a celebrare la rinascita nonché la santificazione si è anche il funerale di Tom adesso aiuto no ma santa lei deve stare molto è tutto è tutto è tutto un'eserciza qui ci sta partendo la trrr ma è vero? terremo la scala perché è lì ok facciamo il corteo ci sta ci sta anche la macchina ecco un attimo passava questa che è una macchina grossa sì no effettivamente ma ti capisco io facca miseria ho lasciato crocifisso a casa no no sono coitato no no perchè devo fare le vie più nascosti sarà almeno una volta da faccia facciamo eccola questa è chi ha la minichelli per chi non lo sapesse questa invece a tom eccola almeno da faccia ho inquadrato una volta tutte e due c'è un po' di terremoto ogni tanto eh riuniamoci ecco prendi qua qua oh oh ce lo vedo ah 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 eh cavolo è perfetto eh dai sì sì perché no davanti al cotone no davanti al cotone no davanti al cotone no davanti alla chiesa dai lì è preciso dai dai che ha più davanti a che bruciavano sul rovo queste cose chi se ne frega dai dai cari fratelli siamo oggi qui riuniti a celebrare la rinascita e nonché la santificazione della nostra neolaureata chiara minichelli applauso eh 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 adesso partirà il rito quindi pertanto ho cercato di sfuggire alla demoniaca specialistica di grafico matri e la pietas animo surgit personale ma e adesso ci sono riuscita a preversi della catarsi a purificarti da una mia che ci ha liberato da quelle prossime ignorante che si è sposa di sapere google ahah ahah l'angoscia ed emozioni che ci provano assistendo alla storia della creativa del rush è il mio pass ahah per seguire questo nuovo cammino. Ha venuto la liberazione dalle passioni e canali che ora non ti rimane per dominare. Stiti! Vabbè! Ma che non è? Cosa è? Adesso dobbiamo essere stati. Quindi Santa Chiara prega per noi, prega che ce li auguriamo tutti. E Santa Chiara ame! Eeeeeee! Aspettiamo qua nel corteo! Dove? La processione! Dove l'hai lasciata? Oddio non l'ho fatto la croce! E porca miseria c'era la croce, mi piace pure. Ok, adesso andiamo. Andiamo al volo! Vatti Diva! Vabbè è una vita grande, è una massa fuori in casa. Dai, andiamo! 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 Poglia, io non vado! Io ando piangendo! Tom, la conclusione? Cosa ci puoi dire alla fine? La conclusione è stata santificata! Chiara, ultime dichiarazioni? I santi non dichiarano, i santi proclamano. Cazzo che fine! Buona serata a tutti!